Fai come Goku, percepici l'aura, carica Super Saiyan Goku e scatena la sua onda energetica. Genius e Freezer non avranno scampo. Intanto piccolo Gohan, Grillin e Trunks tengono sottotiro l'ampicuo fecetta. Fai come Goku, percepici l'aura, carica Super Saiyan Goku e scatena la sua onda energetica. Dopo la vittoria, regalati la collezione con tutti i protagonisti della saga TV. Grazie a tutti.